Questa domenica di Ferragosto la Chiesa celebra quella che con una certa approssimazione potremmo definire la Pasqua della Madonna, nel senso che si ricorda come Maria al termine della sua vita sia stata assunta in cielo, portata in cielo con il suo corpo. La Chiesa giustamente mette questa festività nel momento massimo dell'evasione delle vacanze dei cittadini e quindi anche dei cristiani in qualche maniera per ricordare una verità fondamentale, cioè il pericolo che corriamo tutti di esaurire la nostra vita nel presente dimenticandoci di quelli che sono valori trascendenti, valori che vanno oltre quella che è la ferialità e il godere della vita. Ecco, se non stiamo attenti il rischio è di confondere il paradiso con i piccoli paradisi minuscoli, quelli che ci danno l'impressione di star bene per un momento ma che poi si rivelano dei paradisi ingannevoli, proprio per la precarietà dello star bene, del divertirsi umano che è chiamato in realtà a divertirsi, mi si passi l'espressione, in maniera più grande nell'eternità. Però questo periodo ferragostano ci ricorda anche un'altra verità, la verità è il bisogno che abbiamo tutti di evadere, di andare, ecco questo è il verbo giusto, sentiamo tutti il bisogno di andare, di vedere, di incontrare, di stare con le persone e penso tante volte a quale sacrificio siamo disposti pur di andare. Sto pensando in questi giorni gli spostamenti sui nostri mezzi, sulle nostre automobili, colonne interminabili in autostrada, la stanchezza anche fisica che prende, perché tante volte questi spostamenti davvero finiscono per diventare da un punto di vista fisico più stancanti del riposo stesso che andiamo a incontrare nella vacanza e ci domandiamo qual è la molla che ci fa uscire dalle nostre case dove abbiamo tutto, abbiamo l'aria condizionata, abbiamo i ventilatori, abbiamo i nostri frigoriferi pieni, abbiamo tutto il benessere che uno può pensare, le nostre soluzioni che abbiamo sperimentato per star bene, i nostri servizi. Per cos'è che ci spinge ad uscire? Cos'è che ci porta ad avere questo bisogno ad andare, ad andare, ad esplorare? Io credo che sia lo stesso motivo che accomuna la festa della Pasqua di Maria, cioè la festa dell'assunzione con questo bisogno psicologico dell'uomo, della creatura umana di andare. Noi siamo chiamati ad esplorare, ad andare avanti. In questi giorni mi è capitato tra le mani il libro di un senatore, un importante senatore, un uomo di cultura che insegna storia moderna, il quale si è chiesto come uscire da questa situazione di pandemia che ci ha bloccati, da questa situazione che in qualche maniera ci ha anche resi sospettosi degli altri, perché è inutile che lo nascondiamo, oggi è in atto una certa tensione tra coloro che dicono io ho fatto il vaccino, quindi io sono non infettante e coloro che invece non hanno fatto il vaccino e che noi riteniamo che possano essere la sorgente dei portatori di questa pandemia e quindi anche questa conflittualità psicologica che c'è nel paese, ma soprattutto e prima ancora in questo momento nel quale l'economia, pur se tornata ad esprimersi nel turismo, in altre attività produttive, è ancora un'economia che conosce grandi sacche di stanchezza, usiamo questa espressione, grandi sacche di sofferenza. Allora dicevo, questo senatore ha avuto un'intuizione, ha avuto per far girare il mondo dobbiamo pregare e lavorare, pregare e lavorare e quindi il senatore trova che con questa espressione si racchiuda tutto quello che dovrebbe essere l'atteggiamento che noi usiamo nel nostro tempo. E allora che cosa fa? Fa che si mette d'accordo con due giornalisti, si mette d'accordo con un prete amico e dice partiamo da Norcia, i luoghi di San Benedetto per arrivare a Monte Cassino, 305 chilometri da fare a piedi, attraversando gli appennini, attraversando terre apparentemente abbandonate. In questo suo libro, il senatore che risponde al nome di Gaetano Quagliarelli, il senatore dice che sono tre gli obiettivi di fondo raggiunti o che si cerca di raggiungere con questo pellegrinaggio, con questa camminata che vorrebbe essere diventare il simbolo della ripresa, vorrebbe diventare il simbolo del ripristino della qualità della vita pre pandemia. Il primo obiettivo è quello legato certamente alla parola pregare, ora, l'ora di San Benedetto e lui dice diventa la contemplazione della natura. Oggi davvero noi siamo distratti e penso che tante volte la natura è diventata molto estranea anche e soprattutto alle nuove generazioni. Pensate che un bambino che è andato in campagna era abituato a vedere in polleria i polli sempre pronti per essere serviti e cucinati, alla mamma ha detto ho visto un pollo con i vestiti. Può sembrare una battuta, può sembrare qualcosa che ci fa sorridere, in realtà ci sono proprio tanti bambini che non conoscono, che non conoscono più la cultura della fattoria, che non conoscono più la cultura che abbiamo conosciuto noi quando vivevamo a contatto con la terra, con i campi, con gli animali. Allora l'ora di San Benedetto diventa questo pellegrinaggio che noi dovremmo tornare a fare nella natura, a piedi o negli altri mezzi, organizzando le nostre vacanze, organizzando qualche uscita nei boschi, nella montagna, nelle località di mare per vedere la bellezza che si presenta a noi, per riscoprire questa bellezza che poi è l'impronta di Dio. Dante diceva appunto che la natura è la figlia di Dio e quindi noi contemplando la natura in qualche maniera diventiamo dei contemplativi. Però c'è un secondo importante obiettivo in questo pellegrinare, in questo andare, ed è quello di impegnarsi a riscoprire l'ambiente. Si dice che si cammina per conoscere e si conosce per amare. Si cammina per conoscere, si cammina certamente per conoscere e nel momento in cui si conosce si finisce per amare. Credetemi, io so benissimo i luoghi che ho visitato nella mia vita, li ho conosciuti, ho imparato ad amarli, avrei desiderio di tornare e non necessariamente terre lontane, che so l'India, la Patagonia, la Russia, la Sudafrica, potremmo dire tutti i paesi del mondo, la Turchia, la Terra Santa. Noi siamo stati e abbiamo imparato ad amare quelle terre, perché quando si va si impara ad amare quelle terre. E allora quando conoscendo si impara ad amare cresce una sensibilità, una sensibilità che si trasferisce poi un animo più ecologico. Come ci dispiace quando sentiamo che una calamità ha toccato un ambiente che noi conosciamo? Perché conoscere il territorio vuol dire imparare ad amare quel territorio e imparare ad amare quel territorio vuol dire imparare a rispettarlo, vuol dire far crescere dentro di noi la cultura del rispetto dell'ambiente, vuol dire io quella terra, io quelle montagne, io quel mare non lo voglio inquinato, quella montagna non la voglio sciupata, quel territorio, quel bosco non lo voglio rovinato, perché mi è entrato nel cuore. Io credo che l'amore per l'ambiente deva partire proprio da questa conoscenza. Si cammina per conoscere e si conosce e conoscendo si impara ad amare. Infine credo che il pellegrinaggio sia qua a ricordarci l'importanza della convivenza. Quando si cammina con qualcuno si impara a diventare amici. Io credo che tante volte noi che viviamo nella fretta, che non ci conosciamo neanche nei nostri condomini, è proprio perché non sappiamo fare qualche pezzo di strada insieme. Quando si esce sappiamo dove vogliamo andare, ma dovremmo imparare a dire che quando si esce di casa bisogna sapere anche con chi si vuole andare, perché poi la bellezza di una vacanza è legata sempre alla bellezza di una compagnia. Basta anche una persona sbagliata o una coppia sbagliata all'interno di una compagnia per rovinare una vacanza, proprio perché il camminare ci insegna che la bellezza è l'incontro, l'incontro dello stare con le persone. Allora Benedetto che diceva ora et labora, prega, contempla, ma soprattutto anche lavora e lavorare voleva dire per lui avere un ostello per ricevere i pellegrini, voleva dire vendere i prodotti che avevano lavorato, voleva dire vivere anche delle energie economiche che venivano dal lavoro delle mani. Allora forse riscoprire questo andare, questo camminare, questo stare insieme, fatto con modalità diverse, vuol dire davvero ricreare un mondo nuovo e dopo questa pandemia solo Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. Grazie a tutti.